Noi della Uno Holding non abbiamo mai creduto alle dichiarazioni roboanti, ai proclami dal facile plauso, ma piuttosto nel lavoro, quello che si è soliti definire con la L maiuscola, quello che alla fine della giornata ti gratifica solamente quando è realmente stato eseguito, non solo detto. E' dall'unione tra questa semplice ma fondamentale filosofia di vita e l'esperienza ventennale maturata nel settore immobiliare dal suo fondatore che nel 1994 è nata la Uno Holding. In un settore particolarmente affollato come quello della intermediazione immobiliare e in anni in cui si puntava preferibilmente ai facili guadagni, alla Uno Holding ci siamo costruiti la nostra solida reputazione di azienda fatta di serietà professionale, non solo detta. Di capacità di soluzione dei problemi legati alla vendita, non solo sbandierata ai 4 venti. Al 1997 risale infatti la nostra trasformazione in azienda, grazie ad una clientela in continua crescita. Dai 5 incarichi di vendita in portafoglio del 1994 ai circa 200 incarichi alla fine del 1997. Siamo così solidamente cresciuti che vantiamo, e sono in pochi a poterlo affermare, importanti successi tanto nel settore degli edifici di prestigio come in quello dei cantieri, dell'urbano, degli interi stabili o dei terreni edificabili. Non possiamo certo dire di disinteressarci dal trattare la vendita di singoli appartamenti, già che questo settore rappresenta l'altra metà della nostra operatività, ma certamente vantiamo uguale esperienza nell'ambito degli edifici di prestigio, nelle trattative per interi stabili, come nella porzione dei progetti di terreni edificabili, e ci vedono dimensionati ed esperti in modo appropriato per una felice e rapida conclusione di vendita. È un particolare vanto, ad esempio, la vendita di ben oltre 101.400 metri cubi relativi alla lottizzazione Tor Carbone, realizzati nell'ambito del progetto di terreni edificabili. Alcune delle immagini che vedete rendono evidente la propensione naturale e la caratura operativa della nostra azienda, che vanta un numero di collaboratori aumentato dal 94 ad oggi, dalle 10 alle 75 unità. In alcuni casi, per esempio, si rende necessario il finanziamento finalizzato all'acquisto tramite istituti di credito o bancari. A questo proposito, alla Uno Holding, un preciso settore si occupa esclusivamente di operazioni di questo tipo ed è evidente che lo facciamo con rapidità e nel modo migliore al fine di garantire al cliente tempi brevi e solide trattative. Ma la nostra crescita non vuole conoscere soste. Dopo la nostra espansione nel Lazio, dove contiamo tre agenzie dirette e cinque affiliati, poco più di un anno fa abbiamo dato inizio al programma di franchising nazionale del marchio Uno Holding. Ad oggi, l'azienda vanta i primi otto punti su tutto il territorio italiano. Tra i nostri punti di forza, il nostro call center, contattabile al numero 065108 e il nostro sito internet, consultabile all'indirizzo www.unoholding.it Grazie a tutto questo, ovviamente, puntiamo ad una ulteriore affermazione del nostro marchio Uno Holding. Ad una espansione costante dell'azienda sul mercato nazionale, nel rispetto, comunque, delle caratteristiche operative descritte e soprattutto fedeli a quel concetto di lavoro che da noi non verrà mai meno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.